ciao a tutti sono belluf del canale belluf film e series bentornati in questo nuovo video e oggi volevo parlare di una serie che sta avendo un enorme successo su netflix che è emily in paris però prima di cominciare vi ricordo di mettere like al video quindi pollici in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di youtube allora com'è questa emily in paris io ho appena finito di vederla è una serie di 10 puntate da 30 minuti luna circa l'ho vista tutta ad un fiato e devo dire che mi è piaciuta molto perché è una comedy pura secondo me almeno al 100 per cento a tutte le carte giuste per essere una serie di successo si ispira principalmente ad altri due prodotti molto molto famosi che sono il diavolo veste prada e gossi girl è un mix fra le due perché le ricorda entrambi c'è questo lato modaiolo c'è questa divisione fra i personaggi dove abbiamo la novizia che fa tanta fatica e si deve rapportare con la capa austera di turno che all'inizio non gli dà una lira invece poi comincia a apprezzare le sue qualità e poi ci sono tutte le liaison amorose fra i personaggi c'è la città che è parte integrante della serie perché come in gossip girl new york è proprio la serie stessa anche qua parigi è lo sfondo naturale di tutta la serie probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto se non fosse stata girata a parigi oltretutto per chi ha visto gossip girl ci sta uno spoiler enorme sulla serie è molto carino vedere come viene fatto sto sto mega spoiler la trama della serie è molto semplice perché abbiamo Emily e Kate Walsh dove Kate Walsh fa la capa di Emily e Kate Walsh deve andare a Parigi per lavorare a lavorare per un'agenzia che si chiama Savoir di marketing perché questa agenzia francese è di proprietà di l'agenzia americana sempre di marketing per cui lavorano Kate Walsh e lavora Emily Kate Walsh però non può più partire perché scopre di essere incinta e quindi decide di mandare la sua delfina che è appunto Emily interpretata da Lily Collins per chi non lo sapesse lei è la figlia di Phil Collins il bello di Emily è che anche qua come in Gossip Girl ricorda molto secondo me sia nello stile di come si veste sia nell'aspetto ricorda Blair Blair Wardoff però mentre Blair è nobile altolocata ricchissima e vive nell'upper inside Emily invece è molto più semplice anzi è una fan stessa della serie di Gossip Girl e lei è come se fosse quella che ammira tutto quel mondo sempre alla finestra affascinata dai prodotti fashion e cerca il più possibile di avvicinarsi a quello stile diciamo che è come se fosse la sorella di Dan la sorella mora di Dan in Gossip Girl quindi Emily partirà per Parigi fa tutto con entusiasmo parte con l'entusiasmo al 100% non vedeva era il suo sogno andare a Parigi però si scontrerà con tutte le difficoltà del caso la prima è la lingua e infatti sono molti divertenti tutti gli sketch che avvengono attraverso le difficoltà nel parlare francese perché è completamente diversa ovviamente dall'americano ma anche proprio per la pronuncia che bisogna dargli tipo la r moscia che lei non riesce assolutissimamente a fare e anche per lo stile di vita che ritrova in Francia uno stile che non bada totalmente al lavoro mentre lei era focalizzata sul lavoro tutta ordinata standardizzata stando a Parigi scoprirà che c'è dell'altro e che il lavoro non è tutto quanto nella vita però il suo successo comunque lei ce l'avrà poi abbiamo il lato social che è molto molto importante perché lei quando arriva fa l'account Emily in Paris ha tipo 80 follower sull'account di Instagram alla fine della serie avrà tipo 20k e la prima a rimanere stupita è lei di vedere come ogni volta che postava una foto andava guadagnando sempre più e più follower e anche questo è molto carino molto simpatico da vedere soprattutto per come avviene quindi Emily in Paris è una serie che ha tutte le carte per avere successo per essere una comedy di questo tipo piacerà sicuramente non dico a tutti perché a tutti no però a tanti c'è anche per chi non è appassionato di questo tipo di serie anche per chi magari non ama il diavolo Veste Prada non ama Gossip Girl essendo Emily in Paris un mix fra le due per un mix fatto veramente bene le puntate si guardano proprio cioè quando si inizia a guardare una puntata di Emily in Paris fai fatica a chiudere fai fatica a a smettere cioè ti porta proprio a vedere almeno la fine della puntata e quando finisci una puntata sei già pronto a vedere quella dopo fra l'altro Netflix col fatto che ti fa vedere il prossimo episodio appena comincia la puntata successiva tu sei già incuriosito perché non è mai noiosa non perde mai un colpo ed è fatta veramente bene oltretutto anche quando noi vediamo le puntate ogni volta che ricomincia fatto della scritta che compare a schermo cioè non abbiamo il titolo così anonimo ma c'è sempre la scritta Emily in Paris che compare o da una struttura o che la vediamo stampata su una strada o lei mentre entra in una in un albergo in una nell'agenzia degli Saguara dove lavora è molto molto carina come fatta ricorda un po' le serie che idrama dove i coreani sono bravi perché graficamente che ne so mentre uno scrive a macchina noi vediamo quello che viene scritto a macchina dietro stampato sul muro con i font ecco ci sono quelle parti là che sono molto fresche molto dinamiche e che sono piacevoli da vedere cioè a meno a me come spettatore mi piace molto vedere quello stile in questo tipo di serie ci sta proprio benissimo al cento per cento l'unica cosa magari che a me non ha fatto storgere il naso però può far storgere il naso ai francesi o ai parigini sono i luoghi comuni sui francesi perché ce ne sono veramente tanti e a me fanno sorridere tutti dalla lingua dal fatto che loro alcune cose che noi consideriamo femminili invece le considerano al maschili ai rapporti interpersonali su come sono i francesi al fatto che la serie più di una volta gli dà degli snob però gli snob ci sono dappertutto ma infatti è sempre fatto in maniera posata cioè non è mai c'è una critica per dire alla società francese o ai francesi viene sempre fatta la battuta però poi ci fanno vedere anche la parte positiva di quella battuta per esempio quando emily arriva nell'agenzia di savoir lei è molto standardizzata molto americana molto impostata e a un certo punto gli dicono guarda che tu qua tutti quanti ti temono diciamo che dire è sbagliato però perché all'inizio viene presa parecchio in giro e ti prendono in giro perché hanno tutti quanti paura che tu qua ci vuoi far lavorare di più e lei fa beh ma il lavoro è la cosa principale nella vita io vivo per lavorare e il francese gli dice guarda che forse tu ti stai sbagliando e non hai capito come funziona la vita perché non bisogna vivere per lavorare ma bisogna lavorare per vivere e così puoi essere felice e lei fa ma me il lavoro rende felice e allora il francese gli risponde il lavoro ti rende felice allora probabilmente non sei mai stata felice nella vita quindi questo tono che viene dato ai francesi un po così dello stile sì meglio se lavoro meno come se fossero magari un po pelandroni però in realtà viene visto proprio come dar valore alla vita nella vita non abbiamo solo il lavoro ma probabilmente le cose importanti sono altre poi ognuno lo giudicherà a modo suo tutto molto simpatico tutto molto anche comico se vogliamo anche dai personaggi come ce lo fanno vedere come ce lo raccontano come ce lo spiegano fatto sta che la parte c'è la forza della serie rimane comunque Emily perché Lily Collins è bravissima non perde mai un colpo è sempre una ragazza entusiasta in ogni situazione vede sempre il lato positivo e anche quando tu sei là come per dire no adesso cosa farà cosa succederà oppure ti aspetti che magari lei si da tristi no lei vive tutto con talmente è come se fosse una bambina di sette anni trapiantata a parigi vive tutto talmente al cento per cento che una soluzione la trova sempre e grazie al suo entusiasmo contaggerà anche gli altri personaggi e secondo me questa cosa qua come viene rappresentata nella serie è bellissima e anche piacevole da vedere avrà un seguito Emily in Paris ma visto il successo che sta avendo secondo me sì almeno a livello di visualizzazioni per quanto riguarda invece la storia non voglio fare spoiler ovviamente non voglio raccontare quello che succede durante le puntate però nell'ultima puntata il finale resta aperto ci rimane un grande punto di domanda e io almeno sono curioso di vedere sia come va avanti la storia e di vedere anche una seconda serie fatta così perché se il livello qualitativo è questo ad avercene di altre Emily in Paris detto questo ho detto tutto spero che vi sia piaciuta la mia recensione guardate Emily in Paris e come al solito vi saluto vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf ciao al prossimo video